Salve figli, sono Fiorella, nostra signora. Come promesso, oggi vediamo questo messaggio assai, assai impegnativo, che comunque cerco in tutti i modi di agevolarvi nella comprensione, cosa che per me non è stato così. Io ho dovuto fondere il mio cervello per arrivare a mettere insieme ogni puzzle di ogni cosa, il perché di ogni cosa. Che se non fosse perché qui c'è qualcosa che sfugge all'umano, sarei già finita in un manicomio. Credetemi figli. Ora, prima di leggervi il messaggio, vi voglio citare, sempre per agevolare la comprensione di questa spiegazione, il caso Tortora. Ve lo ricordate? Sembrava che tutte quelle accuse, tutto quel dolore, tutta quell'ingiustizia, sembrava che fosse piombata su di lui nel modo più ingiusto. Non se ne usciva. Non a caso è morto di crepacuore. Ecco, quello è un caso di cui in questo messaggio ne sentirete la spiegazione. È quel caso cui tu, perseverando diabolicamente nell'errore, paghi anche dopo due o tre vite. E allora, sentendoti innocente, lì il dolore è talmente forte, traccia un solco così profondo nella coscienza dell'individuo che sicuramente finalmente avrà colmato quella lacuna per poi non ripeterla più. Ed ecco perché vi diciamo sempre che nessuno è vittima dell'altro, ma sempre e soltanto di se stesso. Quando io spiegavo già queste cose tantissimi anni fa, mi sentivo rispondere, ah beh ma non sono più io nelle prossime vite, per cui chi se ne frega. Ebbene, no figli cari, per farvi un esempio, terra terra, è come se voi durante la giornata cambiate d'abito, ma siete sempre la stessa persona. E così funziona nelle varie reincarnazioni. Siete sempre voi, avete solo cambiato abito e ubicazione. Per cui il dolore è sempre e soltanto il vostro. Perché se così non fosse anche lì ci sarebbe un'ingiustizia. Nessuno deve pagare per un dolore altrui. Ognuno paga sempre per se stesso. E allora ascoltiamo insieme il messaggio. Sono o non sono Dio? Allora, 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 vi voglio raccontare un fatto appena accaduto a Nostra Signora. E allora, come sempre, dedita alle nostre cose, si è sentita male quando le abbiamo rivelato che il nonno di Loris è padre di costui bambino. Ci tengo a precisare due o tre cose che nessuno di voi sa. E là è a conoscenza, a pieno titolo di cosa fa e o cosa sa fare Dio. Dio, mettendoti alla prova, può e deve mettere alla berlina le persone. Uno dice, ma dai Dio, cosa dici? Tu, Dio, mi puoi dire che forse, forse, forse non c'è verità su quello che tu hai detto? Dio, la verità c'è. E se c'è, c'è. Soltanto che è dietro. È celata. Come si suol dire. Perché celata è la vita di ognuno di noi. O no? Se guardiamo ben bene, nessuno di noi sa e o conosce ben bene l'altro. E se anche dovessimo amarci alla follia, nessuno conosce al pieno neanche se stesso. Figuriamoci gli altri. Ma gli altri siamo noi. Quando in un certo senso, noi siamo vittime dell'altro. Come da sempre andiamo spiegando, nessuno è vittima dell'altro, se non di se stesso. L'altro funge da gancio per ogni destino. Ora, Dio lo aveva promesso. Quando io arriverò, dovrete, io dovete rendere conto di pensieri, opere e o parole. Ho detto e o parole non a caso. Dunque, dicendovi e o parole, è per dirvi, guardate, per voi i pensieri non corrispondono mai e poi mai alle parole. Mentre invece per Dio il primo step è dire sempre ciò che pensa. Ma voi credete che ci sono persone che in buona fede lo fanno? E ho detto in buona fede. Sapete perché? Quelli in cattiva fede, beh, quelli mica si risparmiano. Per loro, dire cattivere altrui è un vero e proprio spasso. Dunque, rifacciamoci alle persone di buona fede e ho buon senso. Vigliacco se loro si incatenano. E non dico per altri, no, ma per loro. Loro non vorrebbero mai e poi mai che si parlasse male di loro. Ed è per questo che si tacciano. Non solo. per loro vale il motto vivi e lascia vivere. Facendo così questo succede. Ogni creatura fa esattamente ciò che gli piace. E questo è possibile fin dai primi giorni di vita. Lo vedete? Lo provate? È stato provato che un neonato sa benissimo cosa vuole e lo fa. Sa quando ha fame e piange se non gli dai da mangiare. Piange se vuole ottenere ciò che lui o lei gli aggrada. E questo è scientificamente provato o almeno dalla vostra scienza. Figli cari, avete visto le formiche? Loro non hanno coscienza, non hanno orecchie né occhi, ma loro sanno benissimo come costruire e costruiscono città sotterranea dotate da ogni comfort. E questo lo fanno appunto in modo sotterraneo, anche senza luce. Così Dio ha potuto dimostrare che qualcuno ha costruito e guidato ogni cosa. anche la più piccola, piccola, piccola. Ogni insetto sa benissimo dove andare per nutrirsi e questo è lo specchiato della società. Ogni insetto sa benissimo dove si può incastrare per ottenere il suo piacere di estensione e o prolificazione del suo sentire, no, ma della sua guida che è innata in ogni cosa e o caso. Nostra Signora mi sta chiedendo se fosse arrivato il suo e il mio momento di chiarire certi casi della vita. E va bene, ora raddrizzate le orecchie. Vi vogliamo portare in un mondo assai, assai, assai sconosciuto per voi umani. Prendiamo una cosa a caso? Allora, allora, allora sia chiaro una volta per te e per tutti ma proprio tutti, tutti voi. Quando c'è un obiettivo puntato su qualcuno è perché così giusto è. Ora tenetevi forte e qui vi invitiamo a riflettere tantissimo su ogni parola di questa frase. Prendiamo il caso Loris. Attenti, attenti, potreste fraintendere. Ieri vi abbiamo mentito no, ma di più. Era al che tutti, ma proprio tutti, tutti voi arrivaste a capire no, ma di più. Cosa fanno le persone? Le persone sono quelle dei loro pensieri e non quelle delle loro azioni. Noi vi abbiamo sempre detto che le persone le si riconoscono dai loro pensieri e non dalle loro azioni. Mi spiego. Il piccolo Loris è padre del padre. Cosa ho detto? È padre del padre? Mi dice Fio, ma che cazzo stai dicendo? Pur avendo lei già sospettato una cosa così. Attenti, spiegazione analogica ma non logica per voi umani sulla terra. Dunque, il piccolo Loris era in altra vita figlio di quel nonno no, ma del padre di Loris che a sua volta non seppe amare il padre e così torna sulla terra amato sopra ogni cosa dal padre ma che anche lui ricambiava perché i due erano un legame unico come si suol dire. A questo punto dell'esistenza terrena succede un patatrac familiare e piccolo aveva terminato il suo ruolo terreno e to e piccolo aveva ricambiato l'amore paterno ma il padre che ancora non aveva ricambiato a sufficienza ecco che gli viene tolto anche questo affetto in modo così crudele. Era quella crudeltà con cui in altra vita quel nonno non seppe amare suo figlio. Ora so che vi ho e vi abbiamo sconvolto ma questo è il vero senso dei famosi detti o tu impari ad amare o io ti costringo e così funziona ogni cosiddetto detto o tu fai ciò che io ti impongo o io ti costringo e allora 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 adesso pian piano si capisce perché Dio aveva lasciato quel meraviglioso comandamento ama il tuo prossimo come te stesso perché dice così è questo che ancora non avete capito avete capito figli Dio ti dice tu parlo a te per te comprendi ogni cosa a te e o per te ogni cosa è lecito vero Fio certa gente pensa apertamente o meno che a loro sia tutto ma proprio tutto dovuto loro pensano che siccome Dio li sta mettendo alla prova a loro insaputa e così facendo non gli fa mancare niente già se no come li si potrebbe mettere alla prova o no se non hanno niente che vuoi che ti preparano se vuoi che sperimentano se non gli dai l'abbondanza che vuoi che facciano con poco e niente detto ciò se voi vi imbattete con cose assurde o meno sappiatelo è tutto è tutto fatto per far sì che l'elemento acqua e o fuoco aria e o terra si combini in ogni dove e mi spiego meno e meglio ogni qual volta succedono fatti clamorosi e o meno e se dico meno perché certo clamore ancora non c'è ma che ne sarebbe degno se non di più è perché ancora non è arrivato il suo momento ma il momento dell'individuo c'è e se c'è c'è sempre nel senso che l'individuo è senza tempo né spazio ma c'è gira 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 e quando si torna su quel punto che lui ha fermato per un suo clamoroso errore e allora ma soltanto allora si rivelerà per ciò che è e mi spiego meno e meglio se io adesso in questa mia vita so so o voi pensate che l'individuo non sa no 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 sa 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 e se dico così è perché l'individuo guidato dall'invisibile che ha già trascritto ogni cosa dentro la sua coscienza ma la coscienza non profanata deve essere colmata da quelle lacune che l'individuo ha e se le ha è perché attraverso la vita e le sue esperienze le deve colmare una volta ha espiato i propri errori soltanto allora ma soltanto allora non è più umano ma santo ora so e se so so di avervi fatto strabiliare e o creare dentro di voi una gran confusione ma figli a questa noi siamo abituati siete voi che dovete capire no ma di più che ogni cosa errata si paga innanzi a Dio così come ben spiega la preghiera del Padre nostro rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori dunque riepilogando io in questa mia vita sto pagando per un errore di tre o quattro vite fa quando l'ho commesso per la prima volta non capivo ovvio e scontato ma man mano che si ripresentava l'errore io invece di correggermi andavo avanti perché così piace a me ma Dio non ci ha creati come i suoi sudditi ci ha regalato una coscienza che ci ammonisce ti parla di giorno e di notte e se tu ancora non cedi beh 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 allora 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 sarai messo alla berlina e o mercè di tutto ma proprio tutto tutto il mondo e di questo figli spesso ve ne diamo prova voi figli cari adesso state assistendo all'era delle parabole vero figli perché così Dio ha voluto che ognuno di voi si riconoscesse nell'altro uno mi può dire ma perché siamo tutti ma proprio tutti uguali sì e no sì perché tutti 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 siamo o perveniamo dalla stessa fonte sì perché Dio ci ha creato e ho creati tutti 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 uguali no è perché c'è dietro ogni individuo la terra madre ovvero le esperienze più o meno vissute che fan sì che l'individuo abbia più o meno sperimentato appiattito quel qui di carico di esperienze per far sì che si diventi degni dell'unico Dio ora nostra signora ci pone una domanda assai 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 preziosa ma perché l'individuo deve fare così tanta o tante 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 esperienze perché ci sono così tante ma tante ma tante sofferenze udite 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 ogni individuo procede per gradi nella sua evoluzione che come già vi abbiamo raccontato e ho spiegato vi servono almeno 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 350 vite per voi umani mentre invece ai super uomini già perché esistono anche quelli i super uomini per loro le vite sono dieci volte tanto ecco Fio ha subito collegato i dieci comandamenti perfetto Fio perfetto dunque 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 ogni creatura è formata soltanto dopo aver fatto ogni esperienza ti avvena uno dice ma perché così tanta ma tanta tanta fatica e allora io vi dico perché voi non pensate a Dio quanta fatica ha fatto lui e non voi per oggi basta vediamo Fio stordita anche se queste cose le sa e lo sapeva ma si fa carico darle a voi si fa carico avete capito cosa ho detto lei si fa carico e non vi dico quanto pesano su di lei amè no alleluia sì ecco figli oggi vi chiediamo veramente molti sforzi per capire e andare oltre quando dice no ma di più andate oltre ora se volete capire siete chiamati alla scienza del ragionamento ovvero sviluppare la vostra intelligenza che è in ogni creatura i tempi dello spirito sono iniziati Dio ci porta sempre ciò che noi possiamo affrontare e non non ci mette mai innanzi all'impossibilità di capire grazie sempre per essere con noi alla prossima grazie a tutti